approccio che comprenda appunto la lotta alla povertà, che comprenda lo sviluppo sostenibile economico di quei Paesi, ma anche la tutela dei diritti umani, a poco serviranno altre misure che sono quelle, diciamo, di controllo delle frontiere o comunque, e a poco servirà comunque in qualche modo mettere in campo quelle misure volte a limitare i flussi, a distribuire i migranti verso status di rifugiati nei diversi Paesi dell'Unione Europea. Quindi desidero ringraziare il Governo e mi auguro che anche nel vertice della Valletta, così come fatto in precedenza in diversi vertici europei, la nostra posizione sia una posizione forte, chiara e che riesca comunque a convincere anche quegli, i partner europei, che purtroppo su questo tema non hanno sempre avuto una posizione coerente. Grazie mille. La ringrazio, onorevole Tidei. Passiamo all'interpellanza urgente. 2.148 degli onorevoli Pili e Pisicchio concernente chiarimenti in merito al mancato esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, nell'arcipelago della Matalena. Onorevole Pili, immagino intendo illustrarla. Prego. Grazie, Presidente. Sottolineo innanzitutto l'importanza che il Governo abbia scelto di far rispondere a questa interpellanza il rappresentante del Ministro della Giustizia. Ho detto con molta chiarezza che questo, infatti, era un fatto da Procura della Repubblica. E quindi evidentemente anche il Governo ha ritenuto che su questo tema, anche perché era tra i ministeri interrogati, ci fosse una preeminenza della giustizia rispetto all'ambiente. Il tema è sostanzialmente questo. Parlamento ha stabilito che bisognava acquisire attraverso una norma di diritto, una prelazione prevista da una norma, la 394 del 91, che l'isola di Budelli, e poi entrerò nel merito di cosa stiamo parlando, della unicità di quell'isola, di quel significato, di quel simbolo di quell'isola, il Parlamento, nella legge di stabilità 2014, ha stabilito che quel bene lo Stato doveva acquisirlo, perché riteneva il Parlamento e hanno ritenuto le due Camere che era necessario dare un gradiente superiore sul piano giuridico, sul piano della tutela e della valorizzazione alla semplice gestione dei vincoli. Cioè il Parlamento ha detto che non è sufficiente che sull'isola di Budelli, isola simbola, l'isola rosa dell'arcipelago della Maddalena, ci sia soltanto la possibilità di apporre dei vincoli di tutela, di garanzia rispetto al patrimonio naturalistico ambientale. E quindi il Parlamento ha detto che dovete agire e stanziamo le risorse, 3 milioni di euro, perché si faccia un rafforzamento della disponibilità dello Stato rispetto a quel patrimonio ambientale. Com'è possibile che il Parlamento abbia assunto quella importantissima decisione e poi invece, lungo il percorso, con complicità e connivenze, e le vedremo nel dettaglio, si arriva a bandire quel tipo di prelazione e lo Stato e il Governo e il Governo soprattutto fanno di tutto per affondare quella prelazione e anzi in queste ultime giornate si registra la presenza al Ministero dell'Ambiente, il soggetto che dovrebbe tutelare quel bene, di un privato che non esiste sul piano giuridico. Ha convocato gli avvocati della controparte, cioè del privato, che si è candidato ad acquistare ma non ha acquistato nonostante la sentenza del Consiglio di Stato, perché vi è ancora l'esigenza fondamentale, imprescindibile, del versamento al Tribunale di Tempio dei 2.900.000 euro. Per quale motivo il Governo ha ricevuto nelle stanze del Ministero questi avvocati, questi legali della controparte? Se ancora non vi era e non era ancora nato la soggettività di quel personaggio rispetto al bene fondamentale della proprietà di quell'isola. Io penso che sia questo il vulnus, per quale motivo il Governo non ha fatto di tutto per bloccare, per imporsi anche con la seconda clausola eventualmente della 394 del 1991. Perché quella norma dice, poi la vedremo nel dettaglio se ne avrò il tempo, prelazione, qualora ci sia intercorsa un'azione di compravento o di passaggio di proprietà del bene stesso, oppure fase 2 esproprio. Cioè se vi è una prelazione cosiddetta legale, che è sostanzialmente un atto precipuo quasi anticipatorio della possibilità dell'esproprio, per quale motivo non si è arrivati al passaggio 2? Per quale motivo il Governo, anche di fronte a quello che stava accadendo, di fronte agli interessi che si stavano muovendo intorno a quell'isola, cito per tutto la mia interrogazione di qualche mese fa, in cui la ex amministrazione comunale di La Maddalena, a qualche giorno dal rinnovo del Consiglio comunale, poi cacciati via sonoramente, nomina il marito dell'assessore del bilancio del Comune, nell'ente parco, e segnalo, guardate che c'è questa incongruenza, e nomina il Sindaco, il suo segretario particolare, come se fosse l'ente parco, un soggetto da mettere a gestire cose proprie, cose e affari di famiglia. Ebbene, nonostante questo, tutto quello che stava avvenendo, l'ipotesi che è stata poi votata preliminarmente dal Consiglio di abbassare i livelli di tutela. Nel frattempo, tre giorni prima della decisione del Tribunale di Tempio di anticipare i tempi per la ripartizione dei fondi del fallimento della presente società e quindi la richiesta di acquisizione dei fondi al privato, tre giorni prima sono stati abbassati i livelli di tutela, dove si diceva sostanzialmente si possono recuperare tutti quei volumi che sono all'interno dell'isola di Budelli e farne quello che si vuole. Ed è stato un messaggio sul piano sostanziale, oltre che sul piano comunicazionale, devastante. Cioè si è detto, privato vieni, tu sì che puoi fare tutto quello che vuoi perché sino ad oggi questo era vietato. Quindi un lascia passare sostanziale, giuridico, politico, perché vi era una valenza politica in quel tentativo. Ebbene, cosa fa il Ministero dell'Ambiente? Stabilisce qualche giorno dopo la decisione del Tribunale di Tempio di affidare, di applicare la decisione del Consiglio di Stato, decisione sulla quale poi rientro, per le connivenze e sottolineo la parola connivenze che sono verificate in quella sentenza, in quella decisione di quell'organo. E decide sostanzialmente di convocare questi signori. Per fare che cosa? Perché li convoca al Ministero, insieme all'ente parco? Perché ancora non avendo i titoli di proprietà, questi signori presentano un piano per l'utilizzo e la gestione di quell'isola. Il piano sorge spontaneo. Ma perché? Intanto nella prima slide del piano ci sono tre isole e non solo una. E per quale motivo c'è un cerchio intorno al triangolo delle tre isole dove c'è scritto Aria interdetta? Per quale motivo un privato che viene dalla Neo Zelanda arriva a Budelli alla Maddalena e impone un piano e propone un piano, che poi è un'imposizione sostanziale, perché dice io faccio una fondazione e gestisco tutto io, fuori tutti, e dice sostanzialmente in quel triangolo tra le tre isole più importanti dell'arcipelago non ci passa più una barca. Ci passano quelle che autorizzò io, quelle che autorizza il privato, che quindi fa prevalere la valenza privatistica di quel bene rispetto alla gestione pubblica. E tutti coloro che sono i soggetti che operano, gli operatori marittimi, quelli che hanno sempre e solitamente utilizzato anche l'economia che ne ricadeva dall'avvicinarsi a quell'isola fuori. Si fa un pontile. L'isola rosa, inviolabile, di punto in bianco, nel piano presentato al Ministero dell'Ambiente, nasce un pontile. Cioè si arriva dentro l'isola attraverso un pontile piazzato in mezzo al mare, direttamente collegato con l'isola di Budelli. Ma come fa il Ministero ad accettare la presentazione in un luogo fisico che è un luogo sostanziale, un luogo giuridico e un Ministero dello Stato? Come fa ad accettare che dei privati vengano alla vigilia e quindi non hanno ancora pagato per comprare quell'isola quasi come fosse una negoziazione? Compriamo, versiamo i soldi, se c'è il lascia passare rispetto a questo piano. Pontile 1. Ma se uno poi ha avuto l'accortezza, come ho avuto la possibilità di fare io, di guardare il piano nel dettaglio, e da qui si spiega la retromarcia del giorno dopo del Ministro ridicola sotto il piano comunicazionale, sul piano sostanziale, ignora questo Ministro anche le più elementari norme del diritto. C'è scritto che i volumi contenuti ruderi senza tetto, senza mura, cioè con un fare davvero speculativo, quei beni, quei residuati diventano residenza temporanea per artisti e studiosi. Ma come? Ma lo capisce anche un imbecille che dietro la residenza temporanea per artisti e studiosi si nascondono ville e villette dentro l'isola di Budelli. Solo un cretino non può pensare che lì ci sia un intento speculativo. Cosa vuol dire temporanea? Che ci sta soltanto due mesi all'anno, soltanto due mesi d'estate? E chi sono gli artisti e chi sono gli studiosi che vanno nell'isola di Budelli in 18 metri quadri e si mettono a studiare e a dipingere? Chi li sceglie? Quanto pagano? A chi pagano? Pagano all'ente parco o pagano al privato che lucra su questa ipotesi? La capanna, lo slide 5.3.5, diventa atelier, residenza temporanea per artisti e studiosi nell'isola di Budelli. E poi c'è la casa del brigante, mai nome fu più azzeccato, che diventa residenza temporanea anch'essa per studiosi e artisti. Ci sono due volumi che possono essere recuperati, quei due volumi diventano, guarda caso, residenza temporanea, cioè ville e villette. E poi dice, ma si recuperano i volumi? No, no. Un ministero che legge le carte e un ministro che non parla a vanvera, come è capitato in questo caso, avrebbe dovuto leggere tutto il progetto dove c'è scritto azione 2, inserimento di nuova volumetria più terrazza. Come? Nuova volumetria a Budelli, cioè nuovo cemento. E allora questo progetto, insieme all'area interdetta, insieme al blocco del sistema economico di piccole imbarcazioni che hanno sempre fatto ruotare l'economia in quell'arcipelago, si registra sostanzialmente quello che il legislatore ha in maniera puntuale focalizzato nella 394 del 91. Cioè ha detto, non basta, è aleatorio il fatto che ci siano i vincoli e qualora questo bene sia di proprietà privata. Cioè il legislatore nel 91 ha detto sostanzialmente, guardate che non è sufficiente a porre i vincoli, perché quei vincoli possono comunque essere sostanzialmente bypassati nella gestione e l'utilizzo, nella visione dinamica del bene naturalistico ambientale. E quella visione dinamica e ambientale, lo vedremo per quello che dice la Corte dei Conti, il Presidente Merito della Corte dei Conti su questo tema, è sostanzialmente un fatto che va disciplinato. Oggi, di fronte al progetto di questo magnate neozelandese, sembriamo uno Stato che attende sempre che arrivi il mercenario di turno, che arrivi da qualche parte, basta essere estero, un imprenditore estero, quindi gli facciamo i tappeti rossi e sostanzialmente tutto questo viene meno. E allora bisogna porsi il problema. Per quale motivo non si è arrivati a stabilire quello che bisognava fare, per esempio con l'esproprio? Direte, ma il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza che è una sentenza scandalo. Ed è per questo che poi abbiamo chiesto e ho chiesto che fosse il Ministero della Giustizia. Com'è possibile che il Presidente del Consiglio di Stato, che si è espresso su questo, sia, diciamo così, un subalterno dell'avvocato della parte privata? Una collaborazione scientifica, si dirà. Ma per quale motivo c'è questa frequentazione accademica, sistematica tra il Presidente del Consiglio di Stato e l'avvocato subentrato nella causa proprio per il Consiglio di Stato? Per quale motivo c'è questa affinità, questa frequentazione, chiamiamola così, tra il Presidente del Consiglio di Stato? E sostanzialmente cosa dice il Consiglio di Stato? Dice che non c'era il piano e quindi non può valere il diritto per l'azione. Ma cosa si aspettava Patroni Grifi, Presidente del Consiglio di Stato? Un piano di lottizzazione. E forse il TAS Sardegna non aveva già visto in maniera puntuale che i vincoli costituivano essi stessi un piano. E nel momento in cui il Governo non è intervenuto, per esempio, per un'ulteriore azione di esproprio di quel bene, significa che sta avvallando tutto questo. Tutto questo lo sta avvallando nonostante l'osservatorio, e concludo questa mia prima illustrazione, l'osservatorio delle agromafie, presieduto da Giancarlo Caselli, ex, come sapete, procuratore antimafia, scrive in un parere relativo a ciò che ha fatto il Consiglio di Stato, agromafie. L'osservatorio nazionale per le agromafie definisce in questo modo la sentenza del Consiglio di Stato. La decisione del Consiglio di Stato si pone ai limiti di un'interpretazione che trasmoda in giurisprudenza creativa, inammissibile nel nostro ordinamento, alla luce del principio di separazione dei beni e dei poteri. È evidente che da questo punto di vista il Governo deve dire da che parte sta. Vuole favorire la speculazione su quell'isola o vuole farne un emblema, un simbolo da tutelare e valorizzare per il bene della Sardegna e dei Sardi, ma non solo. Grazie, Onorevole Pili. Sottosegretario Ferri, a facoltà di rispondere. Grazie, Signor Presidente. Come ha detto l'Onorevole Pili, questa questione pone anche diversi aspetti giuridici proprio per la particolarità dell'intervento che c'è stato nell'individuare il diritto di prelazione e tutto quello che poi c'è stato anche dal punto di vista giurisprudenziale relativo a questa questione, così come la sentenza del Consiglio di Stato che è stata già citata.